No ma ci tengo a dirlo, ci tengo a dirlo semplicemente, non volevo imbrogliare nessuno, volevo solo mostrare le mie molteplici personalità Perché tengo tante personalità, dentro, hai capito Stefano De Martino, io dentro, gli tengo assai di personalità, io sono molteplici, hai capito dentro, tu vuoi moltiplicare con me Stefano De Martino? Senta, lasci stare Stefano De Martino, ci sono anche gli altri nei Vabbè io mi moltiplico con lui, poi gli altri si moltiplicano tra loro, se no perdiamo te Lei è venuta tutte le volte che abbiamo capito il perché Ah si è capito? Ah si è capito? Ah si è capito? Cioè era evidente, però tu perché sei brava Simona, perché quella la vedono in pochi Che sta dicendo Scusi? L'anima, Simona l'anima, quella che io ho dentro, quella la vedono in pochi perché noi l'anima ce l'abbiamo dentro Gli tengo un'anima Simona che è triste, gli tengo un'anima non è triste Troppa brutta Troppa brutta Sai per com'è triste, è presente come la mia anima, come quando Maradona ha lasciato Napoli, tale e quali, io sono triste dentro E quest'anima che tengo dentro è sensibile, ce l'ho sensibile? Sì, l'anima Stefano De Martino vuoi vedere come ce l'ho sensibile? Dentro, l'anima, io sono piena di sensi, tu ce l'hai sensi Stefano De Martino e te li faccio perdere io, ti faccio perdere i sensi Lascio perdere Stefano De Martino, ci sono anche gli altri Vabbè, io li faccio perdere a lui, poi gli altri li faccio perdere i sensi, a chi vogliono loro, se no perdiamo tempo Grazie Grazie